Allora Beppe Grillo, ci incontriamo in un momento che senza retorica possiamo definire storico, la vittoria di Donald Trump che è appena diventato 45esimo presidente degli Stati Uniti. È la fine di un mondo, è l'inizio di una nuova epoca, come la interpreta? Ma è un bivio, un bivio straordinario perché questo Pannocchia, così affettuosamente chiamato Pannocchia, che si aggira e non ha delle grandi qualità culturali così, ma è stato talmente oberato di notizie terrificanti con le donne, questa informazione dell'establishment che lo attaccava, del New York Times, sempre contro le donne, contro il razzista e tutto, non ha funzionato. Vuol dire che questo è l'esempio della tragedia e dell'apocalisse dell'informazione tradizionale. televisioni e giornali ormai arrivano dopo, sono un'informazione post-datata, quindi non anticipano niente, non azzeccano più niente e capiscono adesso che gli scemi, i disredati, i disadattati, questi milioni di persone hanno un altro media che è la rete, che viaggiano sotto i radar dei giornali e delle televisioni che non vede più nessuno. Allora, questo è veramente l'apocalisse di un mondo che finisce dell'informazione. È successo esattamente quello che è successo a noi nel Movimento 5 Stelle e a me personalmente, quando siamo nati dalla rete, lo stupore dei media. Dove erano? Milioni di persone nelle piazze, ma dove erano questi? Si stupivano. Sempre dopo siamo diventati il primo movimento in Italia, lo stupore dei giornalisti, a sempre dire filosofi in televisione, a dire gestiscono la rabbia, la paura della gente. Diventeremo, andremo a governare l'Italia e diranno ma come hanno fatto? Sono sempre in ritardo perché è finito quel tipo di informazione e l'informazione è il motore che fa andare avanti il mondo. Questo motore è finito, senza benzina e ne nasce un altro. Basta però, per essere eletti, parlare alla pancia delle persone che tipo di progetto politico è. Nella pancia c'è un cervello a sé stante che emette sostanze chimiche importanti, la serotonina, certe situazioni di felicità e di infelicità sono determinate dalla pancia. A volte, davanti a una persona sleale, non corretta e amorale, non hai altro sentimento come grado di giudizio della pancia. Perché quando sei al tavolo con uno e palle e sai che ti mente e sta mentendo su tutto quello che dice, ti devi fidare dell'istinto. Ma basta poi per governare? Perché tra i discorsi populisti e essere capo di un governo, di una nazione, c'è un gap. Ma noi non vogliamo amministrare, noi non vogliamo cambiare il potere con il nostro potere. Noi siamo un cambio di civiltà, un cambio di visione del mondo. Noi parliamo di industria dematerializzata, parliamo di alla fine del lavoro retribuito, parliamo di reddito sia di cittadinanza sia di universale. Se la nostra società è fondata sul lavoro, come le dicevo prima, se scompare il lavoro, cosa succede? Cosa faremo di milioni di persone, di flussi? Perché dovremmo organizzare e capire i flussi. Cosa faranno milioni di persone senza lavoro? Depressioni, malattie, non si muore più, c'è questa vecchiaia che non finisce più, c'è questa agonia protratta dell'immortalità, cosa faranno? Ma basta captare i malumori senza poi proporre delle ricette concrete, perché poi bisogna essere anche il politico di professione. È una professione, non necessariamente di basso livello. È l'alibi che ha l'informazione di dire, voi andate e non avete un piano politico, non siete in grado, siete gli imbecilli, siete i dilettanti, e i dilettanti si stanno prendendo il mondo, e ben vengano i dilettanti. Se la professionista l'hanno ridotto così, perché Hillary, Obama e tutto il resto hanno disintegrato la politica democratica, la loro politica internazionale. Oggi l'America deve fare i conti con milioni di persone in galera, con milioni di persone che non hanno lavoro, con la classe media che è frenata e non ha più stimoli. Allora qui inseriamo delle idee, e allora l'idea fa paura. Se non fanno parte delle idee vecchie, le idee nuove fanno paura. E allora ecco perché hanno paura. E allora ecco la denigrazione sui giornali, in televisione. Tu hai l'idea di dare un reddito a tutti, oppure hai l'idea di riformare il fisco, hai l'idea di togliere le tasse dal lavoro e portarle su chi consuma materia e petrolio. Ci sono i conti pubblici da rispettare, quindi è chiaro avere le idee che poi però non corrispondono alla realtà dei fatti dei conti pubblici. Ma scusi, i conti pubblici sono conti fatti da gente che ha rubato, che ha mangiato sopra, che ha devastato il bene comune. Almeno nel nostro paese è così, ma anche il vostro non è che scherzi, è molto. Quindi vuol dire che tutti i professionisti, tutti gli intellettuali, tutti gli economisti hanno sbagliato tutti. Se la situazione è questa, se l'Europa è questa, vuol dire che il sogno europeo è svanito. È svanito perché il Brexit, questo Trump, vuol dire che sono, segnali di un grandissimo cambiamento. Allora, se tu lo sai analizzare, lo riesci anche ad affrontare. Allora, bisogna vedere come andrà l'economia. Le ripeto, il lavoro senza reddito sarà senza reddito. Sarà oggi i lavori tra vent'anni, quali saranno i lavori tra vent'anni? Le scuole, l'istruzione è in grado di preparare una persona, io ho sei figli per affrontare il mondo fra vent'anni. Che lavori ci saranno? Se lei sente i discorsi dei giovani, sentire, vede che parlano di condivisione di esperienze. Non parlano di c'ho la casa, ho comprato questo, ho comprato questo. Parlano, sono sempre collegati tra loro per scambiarsi esperienza, che è la valuta del futuro dei giovani. Noi dobbiamo preparare quel mondo lì, che non ci sono i soldi, le case, gli immobili. C'è l'ambiente, c'è la natura, c'è il cibo, c'è il vegetarismo, c'è le piste ciclabili, c'è gli animali, c'è l'ecomondo. Però questi sono argomenti che hanno un certo fascino, soprattutto sui giovani, sono movimenti di tendenza antipolitica classica, però fino adesso c'è stato un limite in questi movimenti antisistema. Nel momento in cui accedono al potere o tentano di accedere al potere, sembrano perdere la loro ragione di esistere e la loro capacità. Prendiamo il caso di Tsipras, in Grecia prometteva tanto, è diventato primo ministro, ha deluso moltissimo. Prendiamo il caso di Podemos, in Spagna, è stato a un passo dal potere e ha dovuto fare un passo indietro. Perché la mentalità è vecchia, perché pensano che la gestione del potere sia una coalizione, ossia gestire con altri, fare coalizioni con altri. Noi siamo partiti per dare degli strumenti ai cittadini, noi abbiamo un sistema operativo che si chiama Rousseau, uno iscritto manda la sua mail e prende una password, chiunque, qualsiasi cittadino può entrare e essere iscritto senza pagare nulla, trova un sistema operativo che gli permette uno da casa sua di votare nei giornali, votare nei comunali, votare il Presidente e poi proporre e vedere le leggi che i portavoce in Parlamento propongono. Se fanno una legge sull'agricoltura e io sono un agricoltore cittadino, posso inserire la mia esperienza di vita dentro una legge e chi meglio di un agricoltore sa qualcosa di agricoltura? E poi posso anche io, cittadino normale, proporre una legge e i miei rappresentanti, portavoce in Parlamento propongono una legge magari col mio nome, di cittadino qualunque, questo è un esempio di democrazia diretta che non si è mai visto al mondo, cosa che non ha fatto né Podemos né Sipras. Allora noi abbiamo la nostra visione del mondo, noi non vogliamo cambiare il potere con un altro potere, vogliamo cambiare la visione di milioni di persone, che cosa vuole una persona, che tipo di qualità della vita vuole, perché cambiare dal petrole alle rinnovabili è un passaggio di civiltà, quando tu tocchi l'energia, tocchi le materie prime, togli da dove arrivano, vedi i trasporti che ormai sono assurdi perché i costi sono esternalizzati, allora affrontare dei temi così è bellissimo e non c'è l'impossibile, signora io ho fatto con un manager casaleggio che non c'è più, una cosa, io ero un comico, sono un comico, io sono un comediante, io non sono un leader, glielo giuro. Però potrebbe diventare un leader, non ne dà qualche idea alla vittoria di Trump? No perché il leader è il movimento, io posso fingere di essere un leader, ma fincherei perché sono un comediante, il vero leader è il movimento, la gente è leader di se stessa. Quindi lei non ha nessuna ambizione per diventare per esempio Presidente del Consiglio d'Italia? Ma no, ma sbaglia, sbaglia, assolutamente. Chiedo quello che molti si chiedono. Assolutamente, non è mai, allora cos'è l'impossibile e il possibile, scusi, un manager, un comico senza soldi, con un computer, in sette anni, sette, senza soldi, signora senza soldi, fanno il primo movimento politico in un paese, era impossibile, tutti dicevano è impossibile, tutti dicono è impossibile e quando è impossibile però sei cosciuto, sei ostinato, arriva, arrivato pieno di fallimenti, falliamo, io faccio parte di una struttura, di un movimento di disadattati signora, siamo falliti, il fallimento è bellissimo se lo sai interpretare, è quasi poesia, siamo tutti disadattati. Siete disadattati però siete al Parlamento europeo, quindi come potete agire? Perché abbiamo parlato di crisi dell'Unione europea, una crisi storica, non siamo mai stati ai minimi come adesso in popolarità, in credibilità dell'Unione europea, ci sono dei movimenti che tendono a operare un'implosione interna come i vostri alleati per esempio del UKIP di Farage, voi avete detto varie volte che non siete interessati alla fine dell'Unione europea in quanto istituzione ma a un cambiamento profondo, come può agire un piccolo gruppo di eurodeputati per cambiare profondamente l'Unione? Il piccolo gruppo di deputati si fa sentire, ovviamente abbiamo avuto delle complicazioni, dei blocchi nelle commissioni, poi bisogna vedere, lì ci sono le lobby, ci sono le commissioni, il Parlamento decide e non decide, noi facciamo quello che possiamo, noi siamo in linea con quello che è il nostro pensiero di un mondo, di economia circolare, abbiamo proposto l'economia circolare ed è stata presa come esempio di economia del futuro da tutto il Parlamento, l'economia circolare significa che il problema rifiuti diventa un problema di materia prima, cioè come agisce la natura da 4 miliardi di anni, io facevo l'esempio dello spazzolino che si butta via solo il pezzettino e si tiene la maggior parte di plastica e si cambia solo il pezzettino, avere cura, il negawatt, abbiamo termini che sono per me vecchi ma per i giovani di oggi, il negawatt è la forma oggi di transizione da un'energia all'altra, cioè l'efficienza energetica con il negawatt, il consumo, cioè togliere le tasse dal lavoro e metterlo che consuma energia ai materiali, dematerializzare l'industria, ci sono le stampanti 3D, dematerializzare e rendere leggeri, noi vogliamo una tecnologia da 120 all'ora sulle automobili, non una tecnologia da 300 all'ora, vogliamo una tecnologia da 200 all'ora sui treni, non da 300, vogliamo la leggerezza, vogliamo un'economia dell'abbastanza. Abbiamo parlato di crisi delle istituzioni europee, crisi del concetto di Unione Europea, però c'è anche un altro dossier aperto in questo momento alla Commissione, una vera questione etica, l'ultimo caso in ordine di tempo è quello dell'ingaggio dell'ex Presidente della Commissione Barroso da Goldman Sachs, quindi c'è un vero problema di conflitto di interessi da parte di alcuni politici, il Presidente della Commissione Juncker ha proposto di rivedere il codice etico, ovvero di allungare a 3 anni il periodo in cui ex membri della Commissione non possono accedere ad incarichi privati, basta? Ma io queste modifiche all'etica fatta da un ex Ministro delle Finanze, che faceva il Ministro delle Finanze in un paradiso fiscale, ho qualche dubbio. La Commissione non è legittima? Assolutamente no, anche perché è una Commissione non eletta da nessuno, con un Parlamento non eletto da nessuno, noi siamo, la cosa che ci ha affiliato a Farage è stata la democrazia dal basso e allora Farage e l'inglese… Non è un po' pentito di essersi affiliato a Farage? No, è stata una questione tecnica per avere dei numeri, poi noi non abbiamo mai… una partnership di comodo, vi siete affiliati… Di comodo è brutta tecnica, diciamo per entrare in Parlamento, se no non potevamo entrare. Vi siete aiutati per entrare in Parlamento, però abbiamo la nostra autonomia. Avete utilizzato Farage come cavallo di Troia per entrare al Parlamento europeo? No, semmai lui può darsi, può darsi, però la nostra autonomia nelle decisioni è stata totale, però ci univa questa idea di un'Europa diversa. di un'Europa mosaico, di un'Europa con le autonomie, con certe autonomie, con certe sovranità. Noi non possiamo pensare che il nostro sistema fiscale, per esempio, che è la politica, signora? È la politica. La politica è il tuo sistema fiscale. Se il tuo sistema fiscale è bloccato da un'ente o da un'istituzione a mille chilometri dal tuo paese, tu non puoi fare nulla, non puoi spostare, perché come sposti… Non c'è ancora un'armonizzazione fiscale in Europa, per il momento sono gli stati nazionali che decidono, quindi siamo ben lontani da questo tipo di posizione di Bruxelles. Assolutamente, allora che tipo di unione? Io non sono contro l'Europa, sono esattamente contro una moneta unica, sono a favore di una moneta in comune. Le parole hanno importanza, comune e unica, sono due concetti diversi. Però l'Inghilterra ha dimostrato qualche cosa che noi ancora ce la sogniamo, di fare un referendum, un chiaro sì, no. Chiaro nel risultato, ma non nelle conseguenze, in realtà c'è una lacerazione nella popolazione in Gran Bretagna, abbiamo visto i balletti… Guardi, la conseguenza e la responsabilità in questo senso ce l'ha il popolo inglese. L'Inghilterra non è mai stata dentro l'Europa, parliamoci chiaro, la sua stellina se l'è mantenuta… Quella è un'affiliazione di Comodo. Sì, certo. Era un paradiso fiscale, la Svizzera è crollata come paradiso fiscale perché non c'è più il segreto bancario, credo che Londra avrà tutti i benefici del mondo. Pensa che il Brexit sia stato solo l'inizio di un processo, effetto domino? Qual è il prossimo passo? Io queste previsioni di chi le ha sbagliate tutte… Mi ha detto prima che lei sta nel futuro, non vuole stare nel passato, quindi mi faccio una previsione. Ecco, le previsioni non le accetto più da chi non ne ha azzeccato una. Io solo accetto un fatto che un popolo si muova, faccia un referendum che è l'unica maniera democratica di democrazia vera e che il ministro che dica se vince questo mi dimetto, questo è stato fatto, Camero se n'è andato, non fa più politica, sono andati a votare, chi non è andato a votare ha sbagliato, perché allora le responsabilità te le prendi e poi questa apocalisse del dopo io non l'ho vista, quella agognata prima del referendum che dicevano… Però qualche danno economico si profilaggia all'orizzonte. Guardi, vedrà, vedrà, tanto la banca d'Inghilterra ha detto, noi abbiamo tanti di quei soldi che possiamo bloccare… Però tante banche e banchieri si preparano ad andare. Guardi, io non credo più in questa informazione, quando questa informazione è troppo… Le cifre sono controverse, la realtà dell'informazione non è in dubbio, le cifre sono controverse. Io ho l'informazione, la rete, io mi informo in rete ed è difficile trovare anche dei canali giusti in rete, c'è tutto il contrario di tutto, però è l'unica forma che io ho e allora vado a vedere l'informazione di uno o di un ente o di una persona che abbia una reputazione. Grazie. 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 Grazie.